Daunia Folk Station Quando si parla di Puglia la mente corre subito alle acque cristalline del Salento, alle bianche scogliere del Dergano, o alle calette incontaminate delle Tremiti. Allontanandosi dai luoghi del turismo di massa c'è però una Puglia dal fascino antico che va visitata in lentezza, fuori dai periodi di alta stagione, perdendosi fra campagni e monti dai declivi dolci. E' la Daunia, terra aspra della provincia di Foggia, ma di importanza strategica fin dai tempi degli antichi romani, che qui posero il crocevia fra le vie consulari Appia, Traiana e Adriatica. Daunia Folk Station, oggi, da cittadino. Lavanderia industriale Landry Concept di Vito Biadi, lavaggio e noleggio di biancheria per alberghi, ristoranti, comunità, bed and breakfast e case di riposo. Landry Concept, ad oggi è operativa in Puglia, Basilicata e Campania, ed effettua ritiri e consegne con mezzi propri, con uno staff tecnico specializzato nel garantire una continua ricerca di prodotti per la detergenza e la sanificazione, sino a raggiungere un basso impatto ambientale. Landry Concept di Vito Biadi, località Scalo di Bovino Foggia, zona PIP, telefono 349 60 88 874, email lclavanderia-tiscali.it Donia Folk Station Porsche, Ferrari, Lamborghini, BMW e Mercedes Le migliori offerte per Bentley e Rolls Royce Alienese Group Service con showroom ad Aliano in via Prato vi invita a visitare una delle loro sedi Alienese Group Service all'auto che fa per te Visita il sito www.alianese.it e troverai il modello che ti farà brellare gli occhi Nuovo, usato o su ordinazione Approfittane subito e vieni a scoprire le ultime novità di Alienese Group Service Giorno per giorno, in ogni momento, accenditi in un sorriso Accendi Radio Prato, un sorriso in più, sorridi anche tu Donia Folk Station Accendi Radio Prato, un sorriso in più, sorridi anche tu